Musica Io credo che i segreti di questo connubio perfetto siano 1. La passione che tutti i ragazzi hanno per questa disciplina, per il musical e per tutte le discipline del musical 2. Il clima di vacanza che si è instaurato, anche se non è una vera e propria vacanza, ma è una vacanza lavoro perché comunque i ragazzi studiano quasi dieci ore Fanno sempre insieme, si va a cena insieme, la sera comunque Pala Gianello, insomma non è New York Abbiamo dovuto davvero inventare delle serate in cui i ragazzi potessero far gruppo Questo insieme fatto da loro, dalla loro proposta artistica, ma soprattutto dalla loro emotività è proprio il lavoro che viene fatto su di loro, quasi a livello spirituale E quindi è stato fatto proprio un lavoro in questo senso, per lasciarli andare, per scioglierli Per fare in modo che vivessero bene le loro emozioni Si crea proprio una vera famiglia Tutti si appoggiano a qualcun altro, a qualche collega Quindi che cominciano a radunarsi, a studiare insieme da una parte, a ripassare dall'altra Si aiutano Vieni che ti spiego com'è, io l'ho imparata, te la spiego È un clima meraviglioso Avremo sempre tanti ospiti, tra l'altro, perché vedo proprio anche il sorriso La partecipazione rispetto a questo progetto da parte anche di grandi artisti Quest'anno abbiamo avuto Loretta Goggi che è stata veramente straordinaria Ha accolto nel cuore i ragazzi, ha dato loro dei consigli È stato veramente un incontro importantissimo Grandi parole dette da una grande donna L'esperienza è stata più che positiva È stato bellissimo e non possiamo che continuare